Nevicata da record, quella che ha colpito il Molise tra giovedì e venerdì notte. Se da una parte, nell'artissimo Molise, si contano i centimetri di coltre bianca per entrare nel Guinness del record con i due metri e mezzo di neve a capracotta, dall'altra si contano invece danni. Il presidente Paolo Frattura ha già annunciato che la regione è pronta ad attivare la richiesta di stato di emergenza per i danni subiti da tutto il Molise, sia a causa della neve che per le forti piogge che hanno interessato gran parte del territorio, mettendo a serio rischio anche l'agricoltura, oltre che persone e cose. I tecnici della protezione civile, ha detto il governatore, stanno lavorando per stimare i danni subiti e già dalla prossima riunione di giunta delibereremo la richiesta di stato di emergenza. Intanto ovunque si cerca di tornare alla normalità. A Campobasso la riapertura delle scuole è il primo segno tangibile di ripresa. Gli uomini e mezzi del comune e della provincia continuano a lavorare per ripulire le strade e soprattutto i marciapiedi dove è stata accumulata la neve. I vigili del fuoco sono ancora impegnati per rimuovere tutti gli alberi che proprio a Campobasso per il peso della neve e per il forte vento sono caduti sulle macchine, sulle case, sui cancelli delle abitazioni e in alcuni casi chiudendo il passaggio di molte strade sia nel centro cittadino che in periferia e anche nelle vicinanze delle scuole, preoccupando molti genitori. Quasi ovunque è tornata la corrente elettrica, eccezione per la contrada Pagliarini di Vintiaturo, ancora senza luce. Dopo la soppressione dei collegamenti ferroviari per Napoli e Roma che nemmeno ieri sono partiti, oggi anche Trenitalia ha comunicato la ripresa della tratta Campobasso-Venafro che è stata ripulita da alberi e neve. Un'ondata di maltempo storica che farà ricordare questo fine inverno molto a lungo.